Allora, buongiorno. Oggi vediamo un video per quanto riguarda le funzioni radici, cioè le radici in genere, dato che anche le radici, queste grandi sconosciute, quando i ragazzi sentono parlare di radici, grande mistero ovviamente. Allora, cominciamo da alcune considerazioni molto semplici. Allora, se io scrivo la radice di 9, radice di 9 sappiamo essere uguale a 3. Perché facciamo l'operazione inversa. 3 alla seconda, cioè l'inverso della funzione radice è la potenza. Se ho radice quadrata, elevo al quadrato il 3 e il 3 alla seconda è proprio uguale a 9, un valore ovviamente che io vado a ritrovare qua dentro. Anche perché come la posso scrivere la radice? La radice di 9 la posso scrivere come radice di 3 alla seconda. Essendo la potenza, funzione inversa della radice, ovviamente questi si possono semplificare, perché qua è sottointeso che c'è 2, quindi il 2 con la radice vanno via e ovviamente mi rimane 3. La radice di 0 ovviamente è uguale a 0. Operazione inversa, perché se vado a fare 0 al quadrato, 0 per 0 sappiamo che fa 0 ed è il valore effettivamente che mi vado a ritrovare sotto radice. Anche in questo caso, ovviamente, molto banalmente, scriverei radice quadrata di 0 al quadrato, ma ovviamente l'esponente e l'indice della radice si semplificano e quindi avrò 0. Proviamo a fare la radice quadrata invece di meno 9, cioè di un numero negativo. Beh, quanto potrebbe essere? Proviamo a fare dei conti. Meno 3, ma se vado a fare meno 3 al quadrato, meno per meno fa più, è uguale a più 9 ed è un valore che è molto diverso da meno 9. È uguale a 3, ma anche 3 al quadrato è uguale a più 9 e non è lo stesso valore che abbiamo sotto la radice. Quindi le radici n pari di numeri negativi, n pari significa radice quadra, radice quarta, radice sesta, di numeri negativi, numeri minori di 0, non si può fare. Almeno non si può fare nel campo dei numeri reali, perché nel campo dei numeri complessi ovviamente si fa, quindi non si può fare. Specifichiamo in R nel campo dei numeri reali. Se io invece vado a prendere la radice cubica, vediamo le radici dispari, la radice cubica di 27, beh, 27 so essere uguale alla radice cubica, posso scrivere direttamente di 3 alla terza, questo si semplifica e quindi è uguale a 3. Prendiamo anche la radice cubica di 0, è uguale, come abbiamo fatto sopra, la radice cubica di 0 alla terza. Si semplifica ovviamente, è uguale a 0. Ma anche la radice cubica di meno 27, in questo caso si può fare, perché posso scrivere come radice cubica di meno 3 alla terza, e quindi vedete bene che 3 e 3 si semplificano, anche perché meno 3 alla terza fa proprio meno 27. Quindi un valore negativo me lo ritrovo qua sotto, perché meno al cubo, ripeto, fa meno. Meno per meno più, più per meno fa meno. Perfetto, quindi sotto le radici n dispari posso trovare quantità che siano maggiori, uguali o minori o uguali a 0. Va bene? Quindi posso trovare di tutto. Questo da un punto di vista, diciamo, prettamente algetico. Adesso, forti di queste nozioni di base, vediamo, nel momento io in cui mi vado a ritrovare sotto una qualsiasi radice, vediamo ad esempio la radice quadrata, mi ritrovo x più 1, per il semplice motivo che ovviamente la x è un valore appartenente ad R, ai numeri reali, può essere qualsiasi numero, quindi io tutta questa quantità non so se è positiva, se è negativa o se è uguale a 0, perché dipende dal valore che attribuisco alla x. Ragion per cui? Ragion per cui? Come faccio io a determinare il campo di esistenza di una radice? È molto banale. Il campo di esistenza, cioè per quali valori di x questa radice ha senso, perché qua parliamo di radice quadrata, radice n pari. Forse radice cubica non mi vorrei il problema, perché la radice cubica abbiamo visto che esiste per qualsiasi valore di R, ma la radice quadrata però è obbligata nel campo reale ad esistere solo ed esclusivamente le valori che siano maggiori o al massimo uguali a 0, per cui il campo di esistenza sarà x più 1 maggiore o uguale a 0, il che ovviamente significa, formula inversa, x maggiore o uguale di meno 1. Quindi questa funzione, questa radice esiste, forse è una funzione y uguale alla radice di questa quantità, questa funzione esisterebbe solo per valori di x maggiori o uguali a meno 1. Altrimenti non ha senso nel campo reale parlare di questa funzione. Va bene? Quindi, in generale, se io ho una radice n pari, quindi radice quadrata, radice quarta, radice sesta, perché è sempre la stessa cosa, dice n pari di una f di x, di una funzione, il campo di esistenza sarà f di x maggiore o uguale a 0. Tutto ciò che è sempre sotto radice deve essere necessariamente maggiore o uguale a 0, altrimenti non posso svolgere poi eventuali calcoli per quanto riguarda le equazioni o le disequazioni irrazionali, cioè quelle che figurano sotto radice oppure con la radice. Va bene? Ecco il motivo per cui si fa il campo di esistenza quando si hanno delle equazioni in cui figurano funzioni con la radice, come in questo caso. Qua era x più 1 ma poteva essere qualsiasi altra cosa e quindi va sempre posta maggiore o uguale a 0. Quindi vi esorto a rivedere un po' le disequazioni, come si fanno, perché quando si ha a che fare con le radici si ha a che fare automaticamente con delle disequazioni. Spero di essere stato chiaro e alla prossima, ragazzi!